Asta la vista ragazzi, io sono Cyborgamer dal distopico futuro ed eccoci ritornati nel futuro post-apocalittico dominato da Skynet e dai Terminator, ovviamente in un nuovo episodio di Terminator Resistance. Bene, eccoci prontissimi con il nostro caro Jacob Rivers e oggi andremo a fare la missione della storia principale. Il bello è che al momento non ci sono missioni secondarie quindi non perderemo tempo a completare le secondarie ma andremo diretti a fare la missione principale che si chiama sempre le regole della sopravvivenza controlla gli avamposti della resistenza. Noi ci troviamo qui ragazzi in uno degli avamposti della resistenza, ve lo faccio vedere appunto un attimino, questo è il posto quindi questo qui lo abbiamo già controllato come prima parte di questa missione principale, poi dobbiamo andare anche a controllare un altro avamposto che si trova da un'altra parte sperando di trovare appunto questi soldati della resistenza, ovvero la divisione sud, così viene chiamata, stiamo cercando anche la comandante Baron e spero che la troveremo già oggi così poi da procedere belli spediti. Comunque fermi tutti, prima di cominciare se non volete essere terminati all'istante mi raccomando ragazzi ad andarvi a recuperare se non lo avete visto lo scorso episodio di Terminator Resistance in cui semplicemente siamo andati a completare la missione secondaria per Colin in cui abbiamo distrutto i container di plasma di Skynet e abbiamo anche completato il primo punto di questa missione principale in cui siamo venuti a controllare questo avamposto qui in cui siamo adesso. Quindi ragazzi vi lascio la scheda qui in alto e il link in descrizione. Perfetto, tutto questo avamposto, tutta questa parte qui che vedete anche là dietro l'abbiamo controllata, abbiamo rovistato dappertutto e ci siamo presi tutte le risorse perché c'era il ben di Dio tra bombe, oggetti da prendere, armi, munizioni, medikit, di tutto e di più c'era e quindi ne ho approfittato per prendere tutta la roba. Intanto ragazzi vedo che c'è del pericolo qui, abbiamo dei ragnetti, i famosi ragnetti, i primi nemici che si incontrano, vedete? Lì abbiamo appunto dietro il muro, insomma stiamo guardando attraverso il muro, ragnetto 1 e ragnetto 2 lontanissimo, cerchiamo di non fare rumore ma li distruggeremo comunque. Magari mi prendo la pistola così uso la pistola per distruggerle così non sprechiamo altre munizioni e di qua guarda guarda che c'è, c'è un bel passaggio chissà dove ci porterà quindi andiamo subitissimo qua sotto, ok la torcia ce l'abbiamo accesa, stiamo sempre attenti ai nemici, non ne vedo di qua, comunque sia potrebbe esserci magari una stanza nascosta. Vedete? Vedete ragazzi che non ho torto? Vedete c'è qualcosa di interessante? Allora facciamo sblocche innanzitutto, apriamo sta porta, ok, e qui abbiamo tante munizioni, munizioni di medio calibro, prendiamo tutto, che altro abbiamo? Aspetta aspetta il medkit, io lo chiamo medikit ma qui mi sa che si chiama medkit, abbiamo la granata tubolare, le tubo bomba di Kyle Reese che ci serviranno, l'altra volta le cercavo come il pane e adesso ce le regalano così, giusto? Mi sembra giusto. Apri, qui abbiamo munizioni di medio calibro, pezzi di metallo e munizioni di piccolo calibro, molto bene, credo più niente perché comunque è uno sgabuzzino davvero piccolissimo, facciamo luce, luce prego, ok, non c'è più nulla, quindi possiamo uscire tranquillamente e i nemici stanno di là, cioè i ragnetti dovrebbero stare di là, quindi li facciamo fuori subitissimo, do un'ultima occhiata controllata, non c'è più nulla, bella la lavagna. Vabbè, se erano segnati delle cose magari importanti e adesso sono partite a fare un attacco, forse a una base Skynet o qualcosa del genere. Comunque ragazzi il ragnetto si trova lì, è praticamente qui dentro, sì. Ok, vado di pistola, ricarico, tanto non mi fa il frizzino di regola. Ok, non mi ha dato per niente fastidio ma potrebbe arrivare l'altro di corsa, dove sta? Ok, sta là dietro ragazzi, lo vedo. Così non è pericoloso, quindi vediamo, mi prendo la roba. Chip di Skynet che ci servirà comunque più in là, qua abbiamo un sacco di risorse da prendere, quindi comunque sì, dobbiamo fare la missione ma ci abbiamo la roba anche da prendere che ci servirà. Partie elettriche, il solito muletto copia e incollato, però bello da vedere, dai. Qui che abbiamo? Tessuti. Qua dobbiamo stare attenti perché abbiamo quel ragnetto, quindi mi ricordavo bene che c'erano i ragnetti, vedete ragazzi? Appunto la mia memoria non mi inganna, eccolo, eccolo, eccolo. Allora stavolta andiamo di Uzi perché vedo che è più efficace. Dove cavolo sta? Oh merda. Eccolo, eccolo, eccolo. Oh merda. No, 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 scusa, scusa, scusa. No, non fa il frizzino, ah, eccolo il famoso frizzino ragazzi. Ok, nuovo livello esperienza 5, nuovo punto abilità. Ragazzi l'ho fatto incazzare io, dai, me lo merito quello che è successo. Sostanze chimiche, molto bene, siamo diventati dei chimici ormai. Ok, qui il punto abilità va messo, va messo subitissimo per potenziarci. Secondo me possiamo mettere una roba importante come costruzione 1 che ci permette di costruire appunto gli oggetti quindi oggetti livello costruzione 1 quindi ci sblocca tutti quegli oggetti che ancora non potevamo costruire quindi subito lo facciamo sì e adesso possiamo costruire appunto dal tavolo molte molte più robe immagino. Qui abbiamo tessuti ragazzi la roba va presa nessuno mi ha detto niente però io la roba la devo prendere perché se non crafto insomma non prendo gli oggetti non crafto poi ci troviamo nella merda in futuro e vedete le cellule di energia che serviranno per le armi al plasma tanto non perdiamo neanche molto tempo non è che si perde tempo a raccogliere gli oggetti fai il tasto e lo prendi subito. Parti elettriche ok molto bene qui c'è la porta da cui possiamo uscire a grimaldello facile allora lo uso dai ok credo sia qui perfetto fatto così apriamo la porta e ce ne possiamo andare tranquillamente di qua mi devo curare un attimino così almeno stiamo tranquilli se no si arriva qualche altro frizzino ci brucia il culo e poi poi moriamo subito. Qui credo di aver preso tutto ragazzi non è che posso controllarmi tutta la scaffalatura adesso comunque credo di aver preso parecchia roba ecco vedete ci sono sempre sorprese pezzi di metallo molto bene andiamo al tavolo vediamo se possiamo craftare qualche bomba qualcosa perché abbiamo bel materiale adesso dai craftiamo veloce. Possiamo craftare effettivamente bella roba allora la bomba no però possiamo ad esempio craftare le plasma cellule rosse che sono le munizioni per i fucili a plasma che non abbiamo ancora le esche sonore che potrebbero servire magari ce le produciamo le produciamo più tardi vediamo poi abbiamo le munizioni quelle del fucile a pompa le cartucce quelle di medio calibro e di piccolo calibro. Allora vediamo un attimino ragazzi fatemi uscire quali servono di più e servono quelle del fucile a pompa di più quindi facciamo quelle queste cartucce qua vado ok e basta così per il momento poi craftiamo altre cose se serviranno il fucile a pompa ragazzi lo uso adesso che lo abbiamo appena sbloccato direttamente dal baule della macchina della polizia quindi perfetto di qua dove si va e fatemi scoprire da qua siamo già venuti sì mi sa che eravamo venuti proprio di qua quindi lasciamo perdere qui non avevo visto le cellule di energia meno male che le ho viste adesso così le prendiamo qua ragazzi andava distrutto il muro e non l'abbiamo fatto vabbè fa nulla quindi usciamo dall'altro lato guardalo guardalo bello carico il nostro caro Jacob con il fucile a pompa ondeggiante guarda guarda come ondeggia e pum 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 ok lì ragazzi abbiamo la roba ovvero il nostro caro container di plasma di Skynet che se magari qualcuno fa il furbo e sbam lo facciamo esplodere qui avevamo qualcosa da prendere mi ricordo aspettate ecco c'era il container cargo che può comunque tenere parecchia roba noi comunque dovevano andare in questa direzione quindi a sto punto ci mettiamo il segnalino qua e ci andiamo subito in questa direzione non credo ci siano nemici ragazzi non spawnano così tanti nemici da queste parti cioè una volta che li ha distrutti la zona è pulita quindi nemici sono contati penso è la difficoltà non è così elevata io ho messo difficoltà normale perché voglio godermi anche la storia non voglio stare sempre a combattere ad avere paura di non farcela eccetera eccetera ok ecco qui il cargo quindi noi possiamo lanciare la bomba la bomba tubolare di Kyle vai bomba fa il tuo lavoro fatto vedete come si è aperto tutto quanto si è spalancato proprio ok abbiamo attirato qualcuno non credo ok abbiamo le risorse di scambio vedete tanta roba anche qui ragazzi becchiamo tutto così sta roba poi la vendiamo ah le munizioni per questo fucilazzo bellissimo molto bene che altro che altro abbiamo vedete quante risorse io ci godo quando arrivo in un posto e trovo tutta sta roba da prendere io ci godo un sacco perché poi possiamo venderla sta roba ok ci mettiamo proprio in ginocchiati sotto a prendere la roba vedete possiamo prendere tutta sta roba ma poi la possiamo vendere quindi serve comunque quello che facciamo non è che dici è tutto perso no 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 serve serve e fa parte del gameplay comunque quindi un container cargo messo così con tutta la roba ficcata dentro che ovviamente ci serve e credo che abbiamo fatto pulizia sì quindi possiamo andare tranquillamente la direzione dovrebbe essere questa qua sì praticamente ragazzi di qua andiamo se troviamo qualche casa magari centriamo e quindi ci dovrebbero essere più nemici vero ne siamo sicuri qua c'erano i container di skynet comunque ce l'abbiamo fatta a distruggere tutto quanto anche la torretta eccetera eccetera quindi andiamo di qua sempre con il fucile spianato qua dobbiamo far esplodere il muro quindi preparatevi ad un bel botto della tubo bomba quindi vado lancia lancia sta roba vediamo e boom ed esplode tutto anzi e sbam e idiota ho visto del movimento nella fabbrica o merda resistenza no sembrava un saccheggiatore non siamo lontani dal nostro nuovo nascondiglio forse il tizio che vive lì aia aia sai una cosa credo che mi presenterò è il minimo che possa fare per tutte queste risorse prendo la roba anzi magari gli regalo anche un mazzo di fiori tu continua a cercare ma che cazzo si ride colin madonna ragazzi sta per fare una brutta fine colin quella persona che lui ha visto che ha nominato è proprio il t850 infiltrato infiltratore porca miseria lì abbiamo la torretta in compagnia del ragnetto il ragnetto il ragnetto quindi attenzione attenzione che qui la roba si fa interessante quindi facciamo apri abbiamo comunque le bombe quindi non stiamo impreparati e qui che altro abbiamo possiamo andare anche su volendo ragazzi possiamo andare anche su fatemi vedere un attimino ok probabilmente ci potrebbe essere qualcosa qui si ci sono degli oggetti da prendere facciamo attenzione saltiamo ecco qua pezzi di metallo che altro abbiamo aspetta voglio controllare per bene sta zona qua niente oh merda già mi sta detectando ma dove sta? ah qua sotto sta ragazzi guardate qua sotto allora qua ci vuole un tipo di fucile tipo questo vado lo sparo dall'alto ragazzi ok non credo che mi riesca a prendere sta sparando poi si è fermato ovviamente mi sono levato è normale piccola battaglia dai porca più si ficca sotto peggio è ma che cazzo fai ecco il ragnetto di supporto facciamo esplodere sto maledetto fatto ragazzi molto bene ma il ragnetto eccolo aspetta che lo becco lo becco beccato fatto questa era la resistenza delle macchine in questa parte probabile che strano luogo tutto distrutto qui mamma mia aspetta aspetta che lì vedo un altro però si muove ragazzi si muove devo scendere molto interessante quello che sta succedendo comunque stavo dicendo che Colin purtroppo mi sa che morirà oggi creperà di brutto perché c'è appunto il T850 che sta in giro che ci sta cercando e comunque eliminerà tutti quelli della resistenza quindi se trova noi fa fuori noi se trova Colin e appunto la storia mi ricordo va così trova Colin ammazza Colin è ovvio quindi un bel T850 neanche un T800 come in Terminator 1 e 2 no con appunto la copertura di carne cioè modello 101 no 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 assolutamente non è Arnold non potevano mettere Arnold questi sono due camion usati dal T1000 all'inizio di Terminator 2 altro easter egg molto bello qui ragazzi che abbiamo la stazione la ferrovia là abbiamo il ragnetto qui c'era un altro ragnetto da queste parti o è sempre quello no è un altro quindi usiamo il fucile a pompa stavolta aspetta no la bomba merda l'ho sprecata ok merda ragazzi può succedere l'ho lanciata a cazzo ok merda merda distrutto già col fucile a pompa mamma mia ragazzi ma quanto cazzo è potente ok vediamo un po sta arrivando l'altro ragnetto avrà sentito il rumore dalla bomba chissà che coglione che sono stato ragazzi a sprecare la bomba mamma mia a volte quando ti fai prendere dal panico e prendi e lanci la bomba clicchi un tasto a cazzo e parte la bomba aspetta che elimino sta minaccia perché se ne va di là dai forza fatto dai dai ragazzi che stiamo diventando più bravi forza bene la musica che si sviluppa quando escono sti nemici comunque ok qua mi sa che ci dobbiamo controllare un bel po di roba e c'è una porta da aprire che ci potrebbe dare roba importante non so se è qui forse all'interno e mi sa che qua allora qua prendiamo le parti che ci sono ecco vedete vediamo tutta la roba che c'è sempre le sostanze chimiche le parti elettriche parti metalliche insomma pezzi di metallo ok qui che abbiamo qua c'è una porta da aprire che ci potrebbe essere qui eh non saprei ragazzi però bisogna controllare magari ci nascondono robe importanti armi stra mega tecnologiche allora qui apriamo fatto fatto sono diventato bravissimo qua proprio a strapiombo si cade giù ragazzi e mi sa che va proprio così mi sa che bisogna cadere giù si esatto qua poi non so ah si può sbloccare la porta meno male se no eravamo fregati qua dentro sblocca poi facciamo apri se troviamo un pc dobbiamo anche salvare apri che abbiamo qui la granata tubolare che avevo sprecato la riprendo molto bene e le munizioni di medio calibro molto molto bene very good qua che abbiamo invece ci deve essere qualcosa sugli scaffali in esposizione qui apriamo ok camion del team mille proprio davanti il triciclo easter egg a terminator 2 praticamente cioè la intro di questo gioco era l'ister egg a terminator 2 con il triciclo ma anche quel triciclo è sempre quello no vediamo ragazzi dove cavolo andare adesso la direzione è questa di qua però dobbiamo anche controllare i posti se abbiamo roba da prendere che facciamo la lasciamo indietro no qui non abbiamo controllato eh vedete che c'è sempre la roba tessuti oh cazzo c'era una cassa munizioni munizioni molto bene munizioni poi poi che altro abbiamo casa vuota eh sì l'altra volta eravamo venuti di qua ragazzi però non avevo visto che era aperto e quindi me ne ero andato indietro qua che abbiamo vedi vedi sostanze chimiche ok e basta solo sta roba non avevo visto che era aperto potevamo andare da questa parte e trovarci in tutt'altro luogo però non l'ho fatto credo che abbiamo finito per il momento possiamo davvero procedere quindi roba presa nemici distrutti in questa zona ha fatto tutto il nostro caro Jacob Rivers quindi devono solamente che ringraziarlo e qui ci possiamo prendere anche i pezzi munizioni parti elettriche chip di Skynet ok sperando che lo zaino non si riempia troppo se no siamo fottuti allora vediamo un attimo qua ragazzi è tutta un'altra zona c'è un palazzo con la bandiera americana dei loghi robe varie quel palazzo è davvero lugubre fa davvero paura guardarlo così non so neanche come si mantiene in piedi quindi ragazzi stiamo attenti questo qui deve essere uno degli avamposti della resistenza quindi ragazzi c'è appunto uno di quelli aspetta aspetta che mi riparo mi sono riparato perfetto aspetta che cerco di eliminarlo col fucile a pompa fatto fatto ma che era sembrava un missile che era volato in aria e poi era caduto bella quest'auto ragazzi mamma mia tipo il dune buggy o comunque una di quelle auto che vanno nelle lande desolate ci sta benissimo usarla in questo gioco cerca munizioni di medio calibro qua abbiamo quest'altro veicolo molto strano ha una ruota dietro sembra uscito dalla seconda guerra mondiale per come ha la torretta sopra deve essere stato costruito proprio così guardiamoci attorno vediamo un po che cavolo succede qui non abbiamo nulla fuori mi sa che non abbiamo praticamente nulla e quindi ragazzi entriamo piano piano qui abbiamo una cassa apri munizioni e munizioni perfetto qui niente impalcatura soltanto si può salire no qua mi sa che è ripido no non si può salire ok e quindi andiamo di qua ragazzi occhi aperti potrebbe succedere qualcosa niente guardie brutto segno infatti ok la torcia ce l'ho già accesa quindi grazie gioco che mi dici cose ovvie stiamo attenti ragazzi allora qua abbiamo il menu dei panini molto bene ok allora 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 siamo arrivati me lo ricordo sto posto qua abbiamo anche il ben di dio da prendere dopo ok quindi qui una mappa vediamo ok quindi a controlla la mappa devo proprio cliccarci quindi si mette a guardare sembra che stavano tenendo d'occhio un vecchio ospedale universitario lontano da qui dove ci sono i t800 all'interno mamma mia ragazzi ok la missione si aggiorna devono essersi spostati in quell'ospedale ok ci sono qual è la tua situazione alla fabbrica colin mi senti no ragazzi mi mi sa che è successo già qualcosa colin colin merda missione completata alle regole della sopravvivenza io intanto salvo si salviamo a questo pc fantastico nuovo livello esperienza 6 nuovo punto abilità quindi subito potenziamo andiamo subito ad abilità e ci potenziamo qualcosa quindi ci potenziamo qualcosa che non abbiamo ancora potenziato zaino tipo alloggiamento zaino aggiuntivo oppure forza danno ridotto del 10% ma non mi interessa perché se ho le armi potenziate potenti con cui faccio subito a distruggere i nemici non mi serve che io abbia questa abilità di avere meno danno dai nemici no quindi costruzione ci abbiamo scastinatori potrebbe essere molto importante apre serrature medie quindi ragazzi facciamo questo così possiamo aprire le varie porte ci facciamo il tutto con calma e ci prendiamo tutta la roba di alto livello di medio livello all'interno di quelle abitazioni quindi perfetto aggiunta nuova missione che si chiama proprio dove è colin ragazzi questa missione già mi fa venire i brividi qua uscirà appunto il t850 infiltrato infiltratore come vogliamo chiamarlo e che ci farà il culo poi cercherà di farci il culo e colin appunto creperà purtroppo ve lo dico perché non è uno spoiler perché il gioco già l'abbiamo giocato già lo sappiamo ok attenzione fatto ok quindi abbiamo munizioni di medio calibro munizioni di piccolo calibro e granata tubolare godo molto godo prendiamo le risorse prendiamo tutta la roba altra granata tubolare ma è un regalo questo ok accendiamo la torcia belli questi sistemi questa attrezzatura molto tecnologica e che abbiamo ragazzi qua dentro allora qui abbiamo tutta la roba da prendere qui sembra un posto dove facevano la riunione il briefing diciamo vedete con tutte le sedie eccetera eccetera vedete munizioni dai prendiamo qui che abbiamo tessuti che abbiamo qui risorse di scambio bottiglia vuota di plastica tipo di vetro prendiamo questo qui abbiamo munizioni med kit pezzi di metallo come sempre qui che altro ci deve essere qualcosa ci starebbero delle bombe delle altre bombe così mi faccio una bella scorpacciata di bombe e sono finiti tutti i nemici contro le bombe tubolari diciamo che sono abbastanza potenti poi ci sono anche delle altre bombe molto più potenti che poi vedrete qui ragazzi abbiamo i tessuti che altro abbiamo cos'è un negozio di abbigliamento questo mi sa di sì ok qui abbiamo una lettera risorsa riscambio ma no sembra una lettera sembra un foglio ma come mi ha fregato mi sa che non c'è più niente ragazzi eh sempre se non mi sto sbagliando credo di aver preso tutto o quasi tutto sempre se non ho lasciato qualcosa dietro vado a salvare per sicurezza quindi salva partita andiamo qui al tavolo da lavoro cosa ci possiamo craftare delle munizioni del fucile a pompa sì come sempre grimaldelli aspettiamo tanto ce le abbiamo non stiamo aprendo tante porte e vabbè salviamo e andiamo dai ora sto esagerando a salvare e quindi subito vai alla fabbrica vediamo dov'è sulla mappa dobbiamo andare qui e qui ragazzi finisce tutto eh per coli nintendo qua va tutto male e il fatto è che da quello che mi ricordo il nostro caro jacob rivers ha avuto già che fare con questo personaggio ma non sapeva che era un terminator cioè non ha capito che cavolo è è una cosa talmente orribile per lui che è talmente sconosciuta che non sa cosa ha attaccato il suo plotone diciamo la divisione paciente quindi è strana come roba cioè uno come jacob rivers uno dalla resistenza comunque che combatte tutti i giorni contro le macchine e non sa una roba sui terminator su questa nuova macchina che è stata creata che sono gli infiltratori che non sono i t800 classici che conosciamo no quelli endoscheletro no che sono scoperti e li riconosci no no è una nuova arma di skynet e che usa anche nel futuro non è che li usa soltanto per mandarli indietro nel tempo no 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 anche anche nel futuro li usa assolutamente anzi comunque siamo arrivati questo è il posto ragazzi comunque c'è da dire che skynet invia questo t850 dal futuro noi siamo già nel futuro se non sbaglio nel 2029 ma lo manda dal futuro al futuro cioè lo manda tipo qualche mese prima rispetto al punto da cui è partito quindi sempre nel futuro lo manda però appunto è una roba strana una roba che non ti aspetti cioè skynet di solito nei film manda i terminator molto indietro nel tempo per uccidere sarah john eccetera eccetera qui invece manda questo t850 infiltrato per eliminare che ne so colin anche noi cioè jacob rivers e altri personaggi ed è strana la cosa perché lo fa nel futuro stesso e non molto nel passato qui apriamo gli occhi perché ragazzi succederà di tutto scene molto molto cruente quindi stiamo attenti metterà ansia il tutto apriamo sta cassa vai ok si dovrebbe aprire subito sì infatti tessuti solo tessuti stavano dentro ok cioè invece di metterci una bomba qualcosa di particolare per prepararci a quello che sta per succedere ci dà i tessuti molto bene non ci servono ok facciamo entra nella fabbrica vuoi lasciare l'area sì ragazzi per forza devo andare avanti qui durante il caricamento dice la resistenza non è più distanza al distretto industriale dove eravamo noi poco fa ma ho trovato un indizio che spero mi porti da loro non mi resta altro che controllare colin e tornare al nostro nascondiglio colin è andato in una vecchia fabbrica alla ricerca di uno strano uomo che non è un uomo è un cazzo di t850 infiltrato mannaggia colin quindi possiamo cliccare e partire missione aggiornata dove colin molto bene siamo in questo luogo molto molto lugubre se vedete accendiamo la torcia per sicurezza colin dove sei mi senti no non parla già più vuol dire che è stato già ammazzato a no fai silenzio sto seguendo quel tizio c'è qualcosa che non va ma non era morto ancora ok strano che ha parlato mi ha fatto spaventare perché pensavo fosse già crepato invece no intanto mi guardo attorno per vedere se ci sono oggetti no ragazzi tutto pulito è solo le pedane che non ci serviranno mai un cazzo ok attenzione qui non si sa mai che ci sono ragnetti ragni corazzati eccetera eccetera quindi non è ancora successo nulla di assurdo magari potremmo sentire dei versi delle grida di colin quando muore non lo so qui ragazzi che abbiamo i bagni tipo cioè gli spogliatoi voglio dire c'è roba da prendere qui ma scusate mettete tutta sta roba e non ci mettete roba da prendere dovrei aprirli tutti questi ah qui c'è qualcosa tessuti ma perché sti tessuti siete fissati questi cavolo di tessuti avete dei problemi merda è scappato prova a vedere se ma che no si sente sparare con la pistola ha gridato ragazzi è finita colin rispondi colin merda ragazzi un'ansia pazzesca cosa potrebbe essere se non un t850 che ti prenda le spalle e ti termina mi sa che lo termina in malo modo quindi stiamo attenti ok qui non c'è nessuno ok mamma mia ragazzi che roba già siamo arrivati a sto punto ok qua abbiamo le turbine tipo che roba ragazzi guardate un po' tante turbine questa roba mi ricorda le turbine che ci sono vabbè sono diverse in terminator dark fate quando distruggono il rev 9 ok qui niente perfetto attenzione ragazzi che quando giriamo l'angolo succede qualcosa se non sbaglio da quello che mi ricordo dalla storia l'ultima volta che l'abbiamo giocata adesso vedrete quanta azione ci sarà in pochissimo tempo attenzione attenzione oh cavolo ragazzi una strisciata di sangue porca miseria l'M16 vediamolo possiamo prendere no il mio zaino è pieno ok giustamente colin sta morendo è già morto e noi pensiamo all'M16 mi sembra corretto stiamo attenti no eccolo lì eccolo lì eccolo lì ok c'è tutto il sangue tutta la roba eccolo eccolo ragazzi tutto serio ci scaraventa via ok però non ci ha terminati ah ci ha fatti svenire sì 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 vero eccolo colin ragazzi mamma mia lo ha terminato già jacob rivers condannato alla terminazione dice guardatelo con gli stessi abiti del t800 di terminator 1 o comunque simili ecco ragazzi che arriva a salvarci lui il mitico eroe guardatelo un po con il camion del t1000 ovviamente non lo ha distrutto ma lo ha danneggiato abbastanza dai un camion ti arriva addosso però il t800 è molto più forte di così ecco che arriva il nostro salvatore scena epica ecco che si avvicina vediamo non posso dirvi chi è lui assolutamente no stai bene jacob lui è l'estraneo che ci aveva chiamato all'inizio però non vi posso dire chi è jacob ok noi stiamo svenendo malamente e quindi sento un suono di sottofondo ma sento come se il personaggio si è alzato con il mitra in mano tipo però non stiamo vedendo niente ok ragazzi caricamento poco dopo ho perso conoscenza che significa che sono stato condannato alla terminazione e chi era l'estraneo che mi ha aiutato devo trovare in fretta il comandante baron forse potrà aiutarmi a capire probabile o forse no magari non sa tutto quanto vedremo insomma il nostro jacob non sapendo nulla di ciò diciamo che reagisce come sarah connor quando kyle gli dice che sei stata scelta per la terminazione una roba del genere e quindi lui spaventato dice che significa che significa che sono stato condannato alla terminazione perché il t800 ha parlato il t850 ha proferito parola e ci ha detto sei condannato alla terminazione però invece di terminarci subito con delle armi ha preferito lanciarci in giro facendoci svenire come faceva il t-rip il t800 di terminator salvation che lanciava in giro john connor roba così no quindi vediamo dove cavolo capitiamo c'è una cutscene molto bene ok che mi devo aspettare ok ore dopo mi hanno trovato steso di fronte al nostro nascondiglio ne sono uscito vivo ma non è stato per tutti così merda colin è morto e quell'estraneo sembra essere scomparso quindi già se n'è andato ok ho raccontato loro tutto ho detto che non sarebbero stati al sicuro con me è certo perché se ritorni 850 ma jennifer dice che adesso nessun posto è sicuro quindi saremo staremo tutti insieme ok ci stavamo preparando al peggio ma non successe nulla ok bello questo discorso così e quindi adesso spawniamo tipo qui al rifugio ok ragazzi attenzione patrick dice jacob sei sveglio da quanto tempo sei seduto qui non molto so che oggi vai in ospedale quindi ho intrapreso la mia prima battuta di caccia e ho trovato qualcosa per te che hai trovato vediamo ok cos'è ah grazie un proiettile sei andato con tua sorella no appena erina ha saputo che c'era un ospedale nei paraggi ha chiesto a jennifer di andare a cercare qualche medicina quindi sono andato da solo oddio poverino a rischio e pericolo non dirglielo ok è già al distretto medico si oh ryan voleva parlarti e sempre vuole parlarci ryan mai una volta che non vuole parlarci ok ragazzi quindi jennifer è già andata verso l'ospedale verso quella zona lì e lì è molto pericoloso ci sono i t800 eccetera eccetera missione completata dove è colin ok e ci dovrebbe essere un'altra missione adesso immagino ok ecco nuovo livello esperienza 7 nuovo punto abilità ma che altro ci dice qui ragazzi abbiamo proiettile aggiunta nuova missione ospitalità che potrebbe essere una missione secondaria o principale devo vedere no è quella principale quindi dice parla con ryan lo faremo siamo di nuovo nel rifugio ma con molta molta più luce guardate un po ragazzi hanno messo le varie candele sembra meno lugubre prima sembrava davvero bruttissimo adesso invece molto cool tutto quanto vedete sembra davvero molto bello ok ci facciamo un piccolo giretto di qua poi parleremo con i personaggi con erin con con lui appunto che non mi ricordo il suo nome dovrebbe essere mark se non sbaglio però dobbiamo dare risposte nel caso parliamo cattive non buone qui abbiamo la scatola affari che hanno messo qua dentro quindi facciamo affari e possiamo vendere tutta la roba che abbiamo collezionato oppure ce la teniamo e possiamo craftare noi della roba munizioni poi delle bombe grimaldelli medkit eccetera eccetera quindi non so bene se ad esempio vendere qualcosa oppure no perché alla fine abbiamo le stesse cose anche noi cioè loro vendono delle cose qui in questa scatola però noi abbiamo più o meno le stesse cose non è che cambia tanto ecco ma qui dentro c'è un pc per salvare mi sa di no ragazzi non c'è il pc mi ricordo che non c'era quindi ci arrangiamo evidentemente il gioco avrà fatto già il salvataggio automatico e quindi il tutto oggi ragazzi soprattutto verso la fine è stato magnifico e sapevo che saremmo arrivati a quel punto Colin purtroppo ragazzi ve l'ho detto godiamocelo finché possiamo ve l'ho detto anche negli scorsi episodi e purtroppo adesso è stato terminato quindi davvero poverino però abbiamo visto al contempo la figaggine di quel personaggio sia dell'estraneo e sia del T850 infiltrato tra l'altro da quel colpo del camion è stato parecchio danneggiato non dico totalmente no perché è durissimo quell'endoscheletro però è stato danneggiato molto si dovrà prima riparare prima di tornare indietro da noi ed è ancora in circolazione proprio come diceva Hagrid riguardo Voldemort nella saga di Harry Potter diceva no secondo me è ancora in circolazione e lo penso bene anch'io riguardo il T850 di certo quello non lo termini così facilmente quindi qui ragazzi non abbiamo oggetti da prendere nulla poi nel prossimo episodio appena iniziamo parliamo con i vari personaggi vediamo un po' di dare delle risposte molto brutte ci starebbe insomma oggi episodio davvero strepitoso ci siamo andati a fare queste due missioni principali la prima quella lì che dovevamo solamente completare e finire e l'altra quella lì di Colin in cui ha fatto purtroppo una brutta fine mi è piaciuta la cazzin finale tutta quell'azione incredibile peccato per Colin perché comunque per quanto fosse stronzo mi ero abituato ad averlo intorno comunque faceva le battute quando facevamo esplodere qualcosa quindi è stato divertente finché è durato adesso purtroppo non c'è più e dobbiamo andare avanti quindi dobbiamo anche proteggere un attimino tutti i vari personaggi che sono qui dentro anche se contro voglia perché stavolta dobbiamo essere diciamo più sgorbutici dobbiamo fare i cattivi dobbiamo dare risposte cattive perché l'altra volta già siamo stati dolci eccetera eccetera dobbiamo comunque seguire un attimino le varie missioni che siano secondarie per avere l'esperienza soprattutto le faccio e appunto che siano anche missioni principali tra l'altro anche oggi in tutto questo è stato bellissimo fare delle piccole battaglie contro i ragni corazzati i ragnetti ci siamo presi un sacco di roba comunque azione ce n'è stata e nel prossimo episodio penso che dovremo combattere contro i T-800 quindi ragazzi sarà dura perché sono tanti nell'ospedale da quello che ricordo e ci vorranno un sacco di bombe tubolari sono quelli non li butti giù cioè mi dispiace già distruggerli questo è certo però se dobbiamo fare la missione va così non possiamo fare altrimenti a questo punto questo video è giunto al termine mi raccomando ragazzi fatemi sapere un po' che ne pensate di tutto questo episodio fatemi sapere che ne pensate delle due missioni principali che abbiamo fatto oggi fatemi sapere che ne pensate delle mini battaglie contro i ragnetti contro i ragni corazzati gli oggetti che abbiamo preso i posti che abbiamo scoperto soprattutto fatemi sapere che ne pensate della cutscene in cui il T-850 infiltrato ci ha scoperti ci ha presi ci ha gettati via l'estraneo ci ha salvati insomma fatemi sapere tutto quello che volete io spero che questo video vi sia piaciuto se volete lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti e ricordatevi sempre che io tornerò mi 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 tornerò